ciao a tutti i video amatori le videomatrici di senza fissa dimora benvenuti in questo breve video introduttivo dell'intervista che uscirà sul canale senza fissa dimora appunto allora volevo introdurre insieme a voi un po l'argomento perché per me serve una discussione e soprattutto manca una discussione pubblica su questi argomenti sul tema trattato dall'intervista che riguarda appunto lo spionaggio di massa a cui siamo sottoposti volenti o nolenti senza essere del tutto informati né preventivamente né soprattutto dopo su sulle domande che riguardano un po tutti cioè su cosa fanno le grandi ditte come apple come google come amazon con i nostri dati audio a chi vengono venduti da chi vengono ascoltati in che modo vengono classificati perché l'argomento è tanto importante innanzitutto bisogna partire un po dal fatto che noi sappiamo veramente quando veniamo registrati oppure no perché ci esistono degli apparecchi sia amazon li vende sia google sia appunto apple dentro già dei suoi dispositivi ma anche microsoft anche quasi tutti i dispositivi di oggi hanno le cosiddette assistenti vocali con dei nomi fittisti ognuno diverso ma sostanzialmente quello che fanno è la stessa cosa cioè ci registrano e convertono i nostri ordini e nostre richieste in ricerche su google e in ordini per l'apparecchio sostanzialmente ora molti di noi crediamo che di dietro ci siano un'intelligenza artificiale ma vi invito a fare delle ricerche in internet su che cos'è una intelligenza artificiale rimarrete un po diciamo sorpresi per non dire delusi perché l'intelligenza artificiale non esiste non è altro che un programma fatto da esseri umani per quello che riguarda l'ascolto delle nostre conversazioni dei nostri la nostra voce in generale di dietro tutto ciò ci sono delle persone fisiche che ascoltano e convertono in ordini le nostre parole si tratta per dire qualche numero che anche l'intervista intervistato appunto chi si chiama thomas è un lavoratore di per globetec una ditta contro terzi che lavora per apple per l'assistente vocale siri solo per apple e solo per siri e lui parla solo per la francia e solo per l'ipad che era quello che di cui lui si occupava si trattava di database di cui lui aveva accesso era costituito da milioni di ore centinaia di migliaia di ore per la francia per ogni apparecchio moltiplicatelo voi per gli apparecchi per i giorni per gli operatori la cifra che otterrete alla fine di tutto ciò è enorme cioè una quantità di dati di registrazioni che possiamo dire che vengono registrati tutti i possessori di apparecchi apple in questo caso ma anche amazon ma anche google ora uno dei fattori determinanti di questa intervista che viene messo in luce è che si tratta spesso classificati come registrazioni accidentali cioè registrazioni che non sono volontarie da parte del cliente diciamo da parte del proprietario dell'apparecchio non c'è una volontarietà di farsi registrare ma nonostante questo queste registrazioni vanno a finire nel database della apple in questo caso del conto terzi di chi lavora ciò significa che sostanzialmente viene viene attivata questa funzione a nostra insaputa per un insieme di fattori a noi sconosciuti alcune volte noi possiamo dire a se noi diciamo ad esempio siri attiviamo l'assistente vocale questo è vero in parte cioè l'assistente vocale si attiva anche quando lui pensa che noi abbiamo detto siri e quel pensa è un programma fatto da uomini e quindi succede spessissimo che si attiva nelle tasche si attiva ovunque voi siate al ristorante in auto si attiva che voi non siete lì presenti e registra tutto quello che c'è essendo dei microfoni altamente sensibili quelli che sono negli apparecchi di oggi registra anche quando voi siete nelle altre stanze in bagno sotto la doccia ma anche quando ci sono le più disparate litigi tra persone litigi in famiglia lui descrive fino a gente che guarda porno e fino a gente pedofilia e fenomeni di pedofilia aggressioni quindi anche atti criminali che vengono registrati sempre involontariamente e la discussione va al di là del fatto di quello che può registrare in che momento e dei danni o meno danni che vengono fatti alla persona che viene registrata ma è proprio eticamente se questo è quello che vogliamo cioè di essere registrati H24 e che questi dati vengano ascoltati da non si sa chi da uno centralino in Irlanda o in questo caso in Irlanda per noi europei ma questo succede globalmente allora la discussione fondamentale riguarda i nostri diritti e la capacità invece di questi colossi di infrangere queste leggi di lavorare borderline fino appunto a sfociare nella violazione della privacy di ognuno di noi dove finisce la nostra privacy dove iniziano i loro interessi ora queste cose qui non riguardano solo appunto cose come può essere un crimine ma anche un litigio un dichiarazione d'amore o qualsiasi cosa queste cose riguardano ad esempio anche la nostra salute in un periodo come questo bisogna considerare il fatto che registrando qualsiasi cosa essendici dall'altra parte un operatore che converte in testo tutto quello che noi registriamo quindi con un margine d'errore sempre più basso perché comunque l'esperienza che viene accumulata di dati fa sì che siano sempre più sensibili e sempre più personali perché si creano dei link come dice appunto Thomas in questa intervista tra quello che noi diciamo il chiama Francesco e il Francesco che è la nostra rubrica è un link diretto semplicissimo non è nessuna intelligenza artificiale c'è un'altra persona che va a vedere nella nostra rubrica chi si chiama Francesco lo associa e tutte le volte che noi diciamo Francesco chiama lui questa metodologia di lavoro deve essere per forza considerata ad esempio nel caso della salute se noi come adesso diciamo una parola chiave e questa parola chiave interessa a un'impresa farmaceutica l'impresa farmaceutica da parte di Apple avrà diritto e accesso a tutte le persone che sono sul database che hanno nominato quella particolare malattia ad esempio dichiarandosi malati di qualche cosa solamente attraverso una ricerca in internet solamente attraverso che in parte può essere vero che noi siamo malati o no ma questo è una cosa totalmente privata non c'è scritto da nessuna parte che i nostri dati riguardanti il nostro stato di salute devono essere venduti a chiunque anche perché lì c'è un interesse sia di venderci a noi poi delle medicine per curare queste malattie sia di vendere a noi il nostro profilo come potenziale malato ad esempio un'assicurazione sanitaria che alla fine può costarci più cara perché noi siamo potenzialmente malati questa e molte altre questioni sono presenti all'interno dell'intervista e vanno discusse sui giornali, sulle televisioni purtroppo abbiamo visto appunto durante questa epidemia ad esempio con la creazione di queste applicazioni che attraverso il bluetooth riescono a capire se noi siamo stati vicini per un tempo a un altro telefono quindi tra due telefoni di cui uno di questi due telefoni è di una persona malata quando si tratta appunto di questa coincidenza diciamo il telefono ci avverte tra virgolette che noi siamo stati a contatto con questa persona malata e che quindi dovremmo sottoporci a un test per vedere se noi siamo anche malati allora questo insieme di questo incrocio di dati, di sensori, l'utilizzo di big data e tutto il resto è una violazione costante alla nostra privacy sanno la posizione che siamo, siano fino al centimetro fino anche quando siamo ad esempio non rintracciabili attraverso GPS ma siamo rintracciabili attraverso 4G, 5G o Bluetooth chiunque di voi può guardare attraverso gli aggiornamenti di Google praticamente hanno concesso questo diritto direttamente all'applicazione senza che noi lo vogliamo o no tutto è fatto in nome della nostra salute allora appunto questa intervista serve un po' a mettere al sole certi comportamenti che sono ormai la routine siamo sempre più pieni di microfoni e di telecamere ovunque ce li portiamo in giro in tasca chip di rintracciamento GPS ad esempio c'era un articolo poco tempo fa che riguardava un'applicazione che attraverso molti sensori quando noi parliamo al telefono ci sono dei sensori che sono in grado di misurare quant'aria entra e esce dal nostro respiro quanto volume di litri d'aria entra e esce dal nostro respiro ad esempio quando abbiamo un raffreddore questo volume diminuisce la nostra respirazione si fa più affannata e ad esempio per certe patologie aumenta esponenzialmente quindi un apparecchio che registra questo tipo di dati dal primo momento in cui noi abbiamo comprato questo apparecchio quindi per anni sa perfettamente quando noi abbiamo un raffreddore, un mal di gola una polmonite, qualsiasi altra cosa in questo modo ci sono delle applicazioni che erano in grado di dire se voi siete malati di una malattia che conosciamo tutti benissimo oppure no tutto ciò ha l'attendibilità così, di uno zero perché sono molteplici i fattori poi c'è ad esempio anche l'ansia, la paura che hanno gli stessi sintomi diciamo ma non solo anche altre malattie che non sono quella o altri stati d'animo un po' come succede anche per altre cose ma quello che adesso interessa è avere una possibilità di classificare le persone senza che loro vogliano sdoganare tutte queste tecniche sdoganare tutta questa violazione della privacy in nome di un non ben precisato pericolo è molto più pericoloso del pericolo stesso la discussione è questa quella che voglio un po' intavolare quella che vorrei introdurre con questa intervista di mezz'ora che farò uscire in piccoli blocchi per poi uscire anche tutta alla fine integrale vi ringrazio che siete stati qui con me spero che vi interessi e niente vi ringrazio, vi saluto e alla prossima